Tre venti in un'unica festa nella comunità di Pedona, nel comune di Barga. Domenica 22 settembre qui si è festeggiato il santo patrono, San Maurizio, con una solenne cerimonia all'interno della bellissima chiesa posizionata sul colle di quello che una volta era il castello di Pedona, a dominare un'importante porzione della media valle del Serchio. Al termine della Santa Messa il gruppo Alpini di Barga ha voluto commemorare le penne nere pedonesi disperse o decedute nella campagna di Russia, con una deposizione della corona di alloro al monumento all'oro dedicato, realizzato e ristrutturato dalla comunità locale e dal gruppo donatori di sangue. Infine la festa si è spostata al parcheggio dove la sindaca Caterina Campani ha tagliato il nastro al nuovo spazio per le auto, che di fatto raddoppia i posti auto già presenti a Pedona. L'opera, finanziata con risorse proprie del comune, è stata realizzata grazie anche alla donazione da parte di un componente della comunità di Pedona. A seguire padre Alessio ha benedetto il parcheggio che ovviamente si è già riempito di auto dei tanti partecipanti alla festa di San Maurizio. Una piccola comunità, quella di Pedona, ma che si sta anche ripopolando di tanti giovani. Era una necessità che era emersa nel corso degli anni passati, quindi abbiamo cercato di lavorare proprio per andare ad ampliare questo parcheggio che è all'entrata del paese, quindi andando a risolvere un po' questa problematica e bisogno che era emerso proprio dalla comunità di Pedona.